E' una delle più belle manifestazioni per i ragazzi di 14-15 anni. E' una delle manifestazioni che consentono di entrare nell'atletica dei grandi e di pensare all'atletica come uno sport vero. E' un'esperienza fantastica per questi ragazzi. Noi oggi siamo estremamente fieri di ospitare per la seconda volta consecutiva i campionati italiani cadetti di atletica leggera. E' un'emozione, lo devo dire con grande sincerità. Ciao, sono Edoardo Scotti, detto anche il cowboy dello zillo di Fidenza. Ai tempi ero molto emozionato, preso dall'ansia e fin troppo agitato per la gara. Mi auguro che voi possiate gestirla un po' meglio domani e domenica in modo da godervela pieno e rimanere sereni pre e post gara in qualunque maniera essa vada. Ciao ragazzi, io sono Edoardo. Io sono Paolo Spezzati per Africa Athletics. Noi siamo un'associazione che opera in Africa, in particolare in Malawi, e porta lo sport, l'atletica leggera, ai ragazzi della vostra età che sono un po' meno fortunati di voi. Lo sport è uno strumento che viene utilizzato per formare la personalità di questi ragazzi che vivono in un ambiente così difficile. La cosa più importante è essere qua insieme a tutte queste altre persone che sicuramente saranno in ansia come me e condivideranno le mie stesse emozioni. Io cercherò sempre di dare il massimo a tutto quello che ho, tornando in Calabria senza rimpianti. Edoardo. 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 Sinceramente ho un po' di paura, però vorrei viverela proprio come esperienza perché stare qua è davvero, secondo me, una magia. Sono tanti che vantano già dei record. Speriamo che questi possano calcare nel loro futuro un palco importante e vincere anche qualche Olimpiade. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!